La discussione ha vari livelli, è opportuno distinguerli anche perché è interesse di tutti noi affrontarli separatamente, cioè nel loro collegamento ma ogni livello, c'è un livello teorico, un livello analitico, è un livello di scelte politiche e di iniziative anche molto concrete. Ora mi pare che siamo d'accordo che c'è una dimensione della crisi del capitalismo molto grande, non risolta assolutamente, anzi chi ha letto anche le cose che abbiamo prodotto, anche il documento sulle questioni internazionali probabilmente si accentuerà abbastanza breve, con ripercussioni assolutamente drammatiche ancora, perché se quanto è avvenuto precedentemente ha già significato nei fatti una guerra contro il mondo del lavoro nell'Europa, con la perdita ormai di una parte amplissima delle stesse conquiste avvenute, un'ulteriore crisi combinata agli elementi di guerra, i migranti eccetera, dà uno scenario assolutamente terrificante. Io credo che la barbarie c'è, l'abbiamo detto, la praticano i governi, la praticano tanti soggetti, sono tante barbarie in questo momento, possiamo alzare la voce nel definirla, oggi stamattina nella relazione, il comportamento dei governi danesi e svedesi era esattamente definito come Giorgio lo richiamava prima, c'è una cosa aberrante, e io sono spaventato anche un'altra cosa, la Francia è la Francia, la Francia è tante cose, è l'89 della rivoluzione francese, è il 48, è la comune di Parigi, è il maggio 68, è il paese che ha ospitato coloro che fuggivano il nazismo, il fascismo eccetera, ma è anche tante altre cose, è l'Algeria, sono i due volti, quel che è impressionante è che quel rapporto di forza che aveva del secondo dopoguerra oggi è il governo socialista di Valls e di Hollande che semplicemente non come in Italia in 4-5 anni, ma nel giro di pochi mesi fa saltare tutto quel quadro democratico e sociale, è spaventoso, anch'io sono spaventato, solo che non penso che basti dire fuori dalla Nato per uscire da questo spavento che ho, questo è il problema che è, e penso anche che in questa crisi capitalistica c'è una ridislocazione delle forze, guarda caso il capitalismo è come la scuola economica che noi abbiamo sempre seguito, questo punto di vista richiamo anche io le tradizioni, il capitalismo è la concorrenza e oggi la vediamo dispiegata con forza ancora più drammatica, con una ridificazione dei rapporti di forza anche tra le diverse potenze, che non è esattamente la stessa di quei 20 o 30 anni fa, qualcuno la vuole riprodurre così, poi c'entra poco con le mobilitazioni, la rotta alla guerra, è un problema di interpretazione, di lettura, oggi c'è dal punto di vista economico sicuramente un arretramento e una maggiore difficoltà degli USA e degli Stati Uniti, anche se conservano in alcuni settori fondamentali tecnologicamente avanzati una primazia, ma un indebolimento in questa battaglia di concorrenza, loro però hanno lo strumento militare largamente superiore a qualsiasi altro e quindi è questo che usano, ma il compagno Napoleone aveva l'abitudine di dire che con le baionette puoi fare qualsiasi cosa, ma non sederci sopra. Sì, ma lo diceva, Petterran veniva dopo infatti, e questo cosa vuol dire? Che hanno vinto apparentemente tutte le guerre in ira dall'altra, ma le hanno perse tutte, perché dopo la guerra occorre forme di stabilizzazione e di gestione, non ci sono riuscito e a me pare, diciamo, noi non possiamo avere una lettura della situazione internazionale in cui esattamente quella degli anni 50 o quella di quando io ho cominciato a fare le mobilitazioni contro il Vietnam nel 64. Oggi c'è l'imperialismo americano, c'è un imperialismo europeo in profonda difficoltà, in profonda difficoltà, che reagisce così anche perché è in profonda difficoltà, perché non sono riuscito a unire il capitale e c'è, diciamo così, non si può vedere la Russia solo come quella che si difende, è come nella prima guerra mondiale vedessimo, dice no, esattamente come erano una parte dei socialisti e gli altri, no, l'imperialismo inglese è un po' meglio di quello tedesco o viceversa, è un imperialismo che si difende a sua volta in questa guerra, è un imperialismo che ha raso al suolo la Cecenia, che sostiene uno dei peggiori dittatori che abbiamo, liberisti, liberisti nel senso che si chiama Assad, che ha massacrato mezzo il suo popolo, io vorrei un po' di indignazione anche per questo compagno Cremaschi, voglio un po' di indignazione perché anche il popolo siriano che si è ribellato contro quella dittatura è stato massacrato. Ok, allora c'è tutto questo, in più c'è ancora qualcosa che si aggiunge a tutto il resto, che ci sono, alcune forze si sono messe in proprio, a via viene da ridere quando dicono in fondo l'Isis dasce dall'iniziativa americana, è vero, si può essere, ma l'Isis è messo in proprio ed è una barbaria come la barbaria imperialista e come quella dal punto di vista marxista, rivoluzionario, umanista, lo uso anch'io questo termine, lo devo combattere e lo combattono i nostri compagni e poi tornerò, le organizzazioni che in qualche modo si rapportano ad esse e c'è qualcun altro che si è messo in proprio, le potenze regionali dall'Arabia Saudita all'Iran che giocano nel quadro delle alleanze imperialiste la loro partita politica. Ragazzi, diciamo così, alcune organizzazioni politiche, fosse il nome, diciamo tutte quelle che si chiamano comuniste, così ideale eccetera, perché comunista tutto sommato siamo anche noi io credo. Così proprio, diciamo così, tutti questi diciamo così hanno bisogno di una semplificazione, ma no, la realtà è più complicata, è questa la realtà. Allora, diciamo così, e da tutto questo ne tiro una prima conclusione, che invece diciamo così è più polemica verso chi può pensare che da quel che è oggi l'Europa capitalista, quel marasmo, che tutti, l'avete detto voi qui non mi soffermo, in cui la dimensione della guerra è immanente, come il vento produce, come la tempesta, questo ce l'abbiamo addosso in mille forme, in forme diverse e addirittura, cioè ci troviamo dopo aver usato il debito per distruggere lo Stato sociale e attaccare come un'arma di guerra, quando c'è la guerra per fare i sacrifici, oggi il fatto che loro stesse abbiano prodotto catastrofi in giro per il mondo con i migranti che arrivano, viene usato come una clava per costruire le condizioni della guerra e l'accettazione della guerra. Questo è il terrificante meccanismo, e tutti siamo un po' spaventati, ma io lo capisco anche, facciamo subito la manifestazione, mobilichiamoci subito, diciamo così, ma purtroppo non risolve il problema, dobbiamo farlo, poi ci torno su questo. E mi porta a una prima conclusione che è la seguente, chi pensa che ha da passare la nottata, mi sono sfuggiti i napoletani che avevo qui davanti a me poco fa, da passare la nottata, si sbaglia completamente. Io quando leggo alcune proposizioni della sinistra italiana in cui c'è il programma bellissimo, eccetera, come bastasse un po' di keynesismo, un po' di buona volontà, un po' di razionalità, di buonsenso per ricambiare le cose, non ha presente cosa sia il mondo. Cioè è finita quel quadro geopolitico di rapporti di classe e di conquiste dopo la guerra, siamo entrati in un altro mondo, terrificante. In qualche modo non solo torna la guerra, qualsiasi battaglia seria contro le politiche liberiste tira in ballo il capitalismo e tira in ballo le rotture. Ed è questa la questione della Grecia. La Grecia non c'era una situazione pre-rivoluzionaria. C'era però un movimento che aveva investito su Sirizza, c'era la necessità di provare di fronte alla Troica, alle imposizioni, ma al successo del referendum, se tu avevi il coraggio di rompere alcuni aspetti dell'ordine borghese. Se fosse avvenuto oggi in Europa discuteremmo in termini completamente diversi. Paolo, un anno e mezzo fa ti chiesi, tu che conosci meglio Tsipras e frequenti la sinistra europea, se vincono le elezioni, hanno idea di cosa dovranno affrontare, quali prove avranno e se non ricordo male, tu mi hai esposto, non hanno alcuna idea. E la cosa mi ha terrorizzato ancora di più. E certo, però noi abbiamo fatto un'altra cosa per capire la situazione greca. Abbiamo fatto esattamente un legame con i compagni di Dea, cioè di un pezzo della sinistra, cioè la sinistra di Sirizza, che ci ha educato, ci ha aiutato a capire, ci ha anche illustrato di più come si può costruire un'organizzazione, è stata fatta tra rivoluzionari, diciamo riformisti di varie... ma ci sono dei momenti a un certo punto che si pone il problema di rotture con l'ordine capitalista. Se lo fai vai in una direzione e crea un determinato contesto anche europeo. Se non lo fai diventi gestore dell'austerità capitalista. Ed è una catastrofe, è una tragedia. E io lo dico così forte perché, diciamo, io posso capire i rapporti, i legami e tutto quanto. Ma, diciamo, ha colpito anche rifondazione quella scelta, ha colpito Podemos, accolpiamo tutto il prezzo di quella scelta lì. E non li abbiamo aiutati molto. Non solo perché non abbiamo fatto le mobilitazioni e la solidarietà, ma non li abbiamo aiutati perché andava detto, in qualche modo, costruito anche il contesto della discussione politica. In questo caso dentro sinistra, la sinistra europea, perché altre scelte fossero possibili. A parte che, diciamo, altre forze della sinistra europea, cioè il Partito Comunista Francese e gran parte anche del Front de Gauche, del Partito de Gauche, hanno votato le misure di Val Hollande. Sono tre deputati socialisti e tre deputati soltanto del Front de Gauche che hanno votato contro. E le resistenze dell'NPA e degli altri, posso dire, soprattutto dei trotschisti e degli anarchici, non uso mai questa categoria qui. Peraltro sinistra anticapitalista non è un'organizzazione to-court trotschista, ha i rapporti e siamo, come ho spiegato a Torino, c'è dei compagni di Veno che guarda tutti i grandi del movimento dei lavoratori, però, per favore, toglietevi il cappello di chi anche solo fa la testimonianza, che però ha una forza, una determinata forza politica per costruire un alternativo. E qui vengo a un'altra questione, cioè il problema, certo, costruiamo, è estremamente difficile oggi costruire una resistenza e una lotta, non ci sono più le condizioni, noi abbiamo sempre pensato, abbiamo ragionato sui rapporti di forza, non su altre cose. Esattamente come ha detto Paolo, la guerra andava va, esattamente questo tipo di cosa qui. È molto difficile costruire questo tipo di cosa oggi. E sono d'accordo che, come la battaglia contro l'involuzione democratica, la battaglia sul referendum, io la vedo completamente persa se non viene legata alla battaglia sociale, così sono completamente d'accordo che in qualche modo occorre costruire il rapporto nella battaglia contro la guerra, con le vicende sociali, con la battaglia contro l'austerità sostanzialmente. E qui, ma non mi soffermo perché voglio dire un'ultima cosa, si tira in ballo il problema delle grandi organizzazioni sindacali e del sindacalismo. E questo mi dispiace, diciamo così, lo dico a due interlocute, a me fa problema come l'USB gestisce la sua area. Mi fa problema che Rifondazione non partecipi alla costruzione di una corrente di classe dentro la CGL. Mi fa un problema nel senso che io voglio i compagni di Rifondazione in questa battaglia politica e sociale. Non che dico, non mi interessa la denuncia, diciamo così, Cremaschi sottolineava che bisogna indignarsi, era un po' così, io dico che bisogna che riflettiamo su questa cosa qui. Non mi piace fare la battaglia, vorrei e c'è la necessità di costruire un fronte, anche per costruire la battaglia contro la guerra. L'ultima cosa che dico, alcuni diranno, non so se gli interlocutori diranno, ma questa è proprio una cosa da... Ora, la battaglia contro la guerra è giusta, la battaglia contro il proprio imperialismo. Ok? Perfetto. Ma c'è qualcuno di là dal Mediterraneo che ha patito le... c'è qualcuno che si è ribellato anche? Non compare mai nell'analisi di alcuni. Io a certe volte leggo quasi delle cose che sembrano quasi, che danno quasi con soddisfazione alla sconfitta delle rivoluzioni arabe. Ma lì c'è una massa enorme di contraddizioni, un'enorme disoccupazione giovanile che ha prodotto in Egitto, Tunisia, in quei paesi lì, una ribellione, scioperi, riorganizzazioni sindacali. Per un momento ha vinto, come è successo in altre epoche della storia, ha battuto il dittatore di turno, ma non ha avuto abbastanza forza per far procedere in avanti la rivoluzione ed è stata sconfitta. E oggi in Egitto c'è una dittatura quasi peggiore di quella di Mubarak, liberista e alleata. E Washington è contento di questa cosa qui. In Tunisia la battaglia è ancora più aperta, compreso la battaglia delle donne. Ma voi credete che... pensate un attimo, quando è stata sconfitta la rivoluzione francese e poi lo stesso Napoleone, c'è stata un'epoca reazionaria in tutta l'Europa. L'ideologia si trasforma nelle... è quello che assistia... cioè la sconfitta in Grecia ci ha portati indietro e fa che la discussione sia così in Europa. La sconfitta in una serie di paesi, come parzialmente la Tunisia, dove non c'è totalmente, ha riportato... ha buttato amplissimi settori di massa nelle braccia dell'Isis o di altre forze reazionali. Come si fa a non vedere questa cosa qui e a dire siamo degli stronti dovevamo aiutarli di più? Io mi incazzo su questa cosa qui. Non è una mania trotskista questa cosa. Noi abbiamo... cioè quando i nostri compagni pakistani ci scrivono delle loro battaglie contro quello che chiamano il fascismo islamico. Loro lo chiamano così. Noi stiamo discutendo su come chiamarlo. Raccontano una cosa viva. Io voglio sentirli miei come li sento miei. Cosa succede in Francia? Cosa succede con i kurdi come kobane per dire? Dove c'è? C'è una campagna della sinistra a sostegno delle mobilitazioni che ci sono state? C'è una campagna della sinistra a sostegno delle lotte che si stanno riproducendo in Egitto? No, non c'è. Posso dirlo? Come non ci fu a suo tempo un sostegno alla lotta democratica e autogestionaria di Solidarnosc nel periodo in cui rappresentava fino in fondo la classe? Non ci fu. E così li buttammo nelle mani della destra, diciamo, degli Stati Uniti, dell'imperialismo e di tutto quanto della Chiesa. Posso dire che una sinistra così è una sinistra che rinnega quel che c'è scritto nel manifesto del Partito Comunista? Sono d'accordo, euro non nato, nu è. Ma tu dove stai? Lì, in quegli altri paesi? Stoi con i lavoratori, con le masse o guardi qualcun altro? Guardi gli Stati, guardi i governi, guardi semplicemente la... Tu Giorgio, per la tua storia, per le altre cose, devi essere con noi, posso dire così, a sostegno di quei movimenti nei paesi arabi che esattamente si battono come noi per la democrazia, per una rivoluzione sociale, per, diciamo così, la speranza che è nostra, perché se no non ce la faremo, non vinceremo la battaglia contro la guerra. La battaglia contro la guerra viene anche vinta se in Egitto ritorna un movimento di massa forte operaio o se un tinisia non viene schiacciato. Questo è il tipo di cosa. Io non lo so, mi pare così elementare, mi pare veramente così elementare all'interno di una concezione internazionalista. Perché ho concluso? Perché dicevo Mars del manifesto del Partito Comunista? Perché io non so, sono stato educato così, sarò stato educato male, non lo so, ma io parto sempre dal presuppo... Da quale punto di vista? dal punto di vista degli interessi delle masse di tutti i paesi, dei lavoratori e delle lavoratrici. Questa è la cosa. Parto di lì, poi aggiungo tante altre considerazioni, ma anche a me pare riduttivo oggi. Io scenderò in piazza per dire no alla Nato. Ok? Ho finito. Ma scenderò in piazza anche per dire sono a fianco dei lavoratori egiziani, dei lavoratori tunisini, di quelle masse che sono oppressi dall'imperialismo, dalle loro dittature, dalle classi dominanti locali e dall'ISIS. È pura propaganda? Meglio una buona propaganda che una cattiva posizione politica.